Musica Mamma ci ricordi quando ero piccoletto e mi si voleva la scaletta quando ho letto come son cresciuto mamma mia devi vedere figurati se faccio il coracchiere Dicono che di crescere non mi dovrò fermare dicono che possa ancora più alto diventare e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'italata Alessandro Poggi di Ballarò anche stamattina si è detto che il governo sta facendo molte cose lei scommetterebbe su di lei questa volta? Su? Lei scommetterebbe su di lei? Su di me? Non conosco nessuno che sia all'altezza della situazione Anche con le capacità di resistenza alle accuse false che gli vengono rivolte da troppe persone e qualche cosa anche riguarda la sua trasmissione Grazie Grazie